Allora ci siamo, buongiorno buongiorno ragazzi, siamo già in onda, caspita, velocissimi oggi già 6.30 e qualche secondo, ancora una volta insieme per quanto riguarda l'informazione che parte puntualissima, nel resto come tutte le mattine. Allora ancora una volta diamo il buongiorno alle persone collegate con noi, ma non solo i suoi social netto, per quanto riguarda Facebook, dove ora andiamo subito a vedere, eccolo qua, la nostra notifica pronti per partire, dicevo anche il benvenuto invece a quanti sono già collegati proprio sul digitale terrestre e quindi canale 15 come di consueto, 1.5 del telecomando per cercare insomma di seguire la nostra informazione, quest'oretta insieme che facciamo anche proprio in televisione. Buon pomeriggio invece agli amici delle ore 4 e mezza della fascia pomeridiana che ci seguono nella consueta replica infatti che va in onda nel pomeriggio fino alle 5 e mezza circa insieme per cercare di rivedere poi quello che già è stato trasmesso il mattino ma che molti non hanno la possibilità di fare. Allora adesso andiamo proprio con il numeretto in apertura, poi i saluti, il numero 327 94 39 574. Parleremo di tante cose questa mattina, parleremo ovviamente con la notizia del giorno per quanto riguarda la proposta ieri che non sarà obbligatoria ma sicuramente ieri ha fatto discutere quindi un po' ci confronteremo su quella che è l'idea dell'Unione Europea per quanto riguarda il pass vaccinale che sta diventando sempre più realtà e quindi potrebbe essere entrare in vigore proprio già da metà giugno come ieri presentato. Ma te parliamo tra pochissimo. Prima faccio un saluto alle persone collegate come Sonia che dà la buona settimana a tutti. Grazie poi ancora Fabio che mi saluta ancora una volta Mirella con noi da Arta Terme, Khalid da Sacile, tanti gli amici anche della provincia di Pordenone principalmente nord-est ma ci ricordiamo di quanti ci seguono da fuori nord-est per quanto riguarda le altre regioni d'Italia e poi tutti gli altri invece collegati nel mondo sparsi. Laura buongiorno, ciao Riste, ciao Francesco da Belluno, felice che ci saluta tutti i friulani, tutti gli amici di San Giovanni e Nattisone, Maria Grazia ancora è collegata, Micaela che dà il buongiorno un po' a tutti con l'icona anche della cappuccina in brioche, buongiorno a te. Nicola da Belluno anche lui con noi, Orietta, ciao Orietta, buongiorno. Angela, buongiorno a tutti dalla Tisana, buon inizio settimana, ciao, siamo ancora qua, dice Anna Canali, buongiorno, ciao Anna, hai visto che siamo ancora qui come ogni settimana, Valentina, buongiorno, puntuale anche oggi con cambio dell'ora, con cosa iniziamo la settimana, hai visto ieri Valentina, iniziamo con questa proposta dell'Unione Europea ma faremo un accenno, dai una bozza di quello che è il pass vaccinale, come funziona e cosa è stato presentato ieri, quando dovrebbe partire e come funziona. Come ho detto, Vanna, buongiorno, buon inizio settimana, Cristiana, buongiorno a tutti, ciao, Stellina infinite, dice Cristina, ok, ciao, Paola, buongiorno anche a te, Learco da Castelnuovo del Friuli è collegato, tantissimi come Claudia Zanini, la nostra affezionatissima da Lignano, la nostra super fotografa, e ancora Nicola che non smette mai di seguirci, dice buongiorno da Nicola di Terenzano, Fabrizio, buon lunedì, Robi, direzione Lignano, mi dice Fabrizio Vida, no, direzione Milano, ok, Fabrizio, buongiorno, dove vai a Milano? Cosa fai per lavoro? Sicuramente, vero? Ancora, dai, ciao Cristina, Daniel, buongiorno a San Vito del Tagliamento, Claretta ci saluta, Giampaolo, ma abbiamo tantissimi come Sandra, buon inizio settimana, Alex, ciao Alex, buongiorno anche a te, Claretta che mi va un po' di stelle, grazie agli amici che me le donano, e Catto Stefano che dice buongiorno Roberto, è una settimana, è un po' che non prendo un live, ma ti seguo sempre nella tarda mattinata, una buona settimana, bene, Stefano, non solo tu, come tanti altri, infatti io ricordo, approfitto per dire, rimane la registrazione del video e poi ci ritrovate in replica al pomeriggio anche alle 4 e mezza, ok? Ester, buongiorno Ester, ciao, Elena Menegazzo che è collegata con noi. Andiamo con l'informazione, le 6 e 35, ho già ricordato il numero per quanto riguarda la trasmissione in diretta da parte delle persone che sono collegate con noi, lo dico anche per chi è in replica, perché poi tanti messaggi arrivano anche nel pomeriggio, oggi volevo iniziare con questa panoramica, dai, giusto per vedere insieme, insomma, di cosa si parla per quanto riguarda la presentazione che è avvenuto ieri, insomma, con questo desiderio di ripartire, che però si affianca a questo documento che principalmente sarà cartaceo, ma si punta al digitale. Molti sono spaventati da questo, altri non ci hanno capito nulla per quanto riguarda come funziona e quando dovrebbe partire, perché all'inizio sembrava una barzelletta, ma questa cosa si sta realizzando veramente. Che cos'è, insomma, a giugno potrebbe partire? Anzi, ieri l'hanno annunciato come una cosa ormai quasi certa, no? Questo pass vaccinale per viaggiare all'interno dell'Unione Europea, in Italia poche applicazioni, ieri appunto con la presentazione di questo certificato che riguarderà, lo ricordiamo principalmente quindi, chi è immunizzato nel caso in cui insomma abbiate avuto il Covid certificato oppure ha fatto la vaccinazione, ma lo ricordiamo ancora una volta, non sarà obbligatorio. Il Lazio, dice ancora, va collegato ai nostri documenti, poi ancora albergatore, dice, si dia validità a questi atti in qualche modo per favorire i viaggi internazionali proprio attraverso gli stati della Unione Europea. Sempre sarà associato poi ancora, per quanto riguarda il tampone antigettico, il test rapido nel caso in cui non ci sia una vaccinazione con possibilità di caricamento e visualizzazione del referto digitalmente, ok? In poche ore, in pochi minuti, in poche parole, sempre tramite questo documento. Ieri tutto questo potrebbe diventare in realtà attraverso proprio il commissario dell'Unione Europea che va a mostrare proprio in diretta, in conferenza stampa, questo primo passaporto sanitario. Oggi ne parlano poi tutti i quotidiani, quindi ho deciso in qualche modo di presentarlo e di andarvi a vedere come si sta muovendo l'Unione Europea in questo caso. Per quanto riguarda molti che mi chiedono per le vacanze, gli eventi pubblici e lo sport, se sarà necessario o se si va verso l'autorizzazione di tutto questo, si va proprio verso questa direzione. Passa vaccinale entro metà giugno, l'annuncio del commissario ieri, De Luca fa per suo conto, prepara 4 milioni di card, Crisanti dice è difficile l'immunità di legge. In qualche modo, detta tra di noi, ognuno dice la sua, è davvero difficile mettere un pochino d'accordo a tutti. Oggi ancora nel messaggero si fa anche un po' un riassunto di come è fatto questo che viene definito pure spesso Green Pass o passaporto vaccinale, giusto per dare nome a come si chiama, ancora dove si potrebbe andare solo con il Green Pass, ad esempio utilizzato sicuramente per le vacanze all'estero dopo metà giugno, quando ci sarà la chiusura delle scuole, all'interno delle piscine palestre può essere utilizzato, studi in stadi, palazzetti, negli hotel che possono avere un riconoscimento covid free, dove appunto si entra se hai questo pass, ancora concerti, discoteche. Questi sono i principali luoghi, almeno che secondo l'Unione Europea, dei quali potrebbero vederne l'applicazione. Vedete che appunto sarà un tesserino che potrà essere cartaceo oppure digitale, al suo interno un codice a barre, QR, lo vedete il codice qui, che indicherà quale tipo di vaccino avete ricevuto, quando, quante dosi, la data di somministrazione, se si è già stati positivi il covid e la presenza pure degli anticorpi. Questo è il certificato, insomma, per sommi capi. Cosa si potrà fare liberamente con Green Pass? Ad esempio, potrà essere utilizzato per accedere liberamente magari ad un ristorante o un pub anche in più persone, musei e mostre senza obbligo di prenotare, in questo caso un vantaggio di questo tipo, cinema e teatri in turni covid free, aperitivi e pee hour, eccetera eccetera. Vedete, insomma, queste le applicazioni proprio in apertura per quanto riguarda questa proposta, che non sembra tanto, come dicevo, una proposta dell'Unione Europea, per quanto riguarda invece l'atto pratico che loro stessi stanno facendo, di andarlo ad autorizzare, proprio vederlo messo in pratica in uso da metà giugno, come loro danno, come indicazione temporale. Buongiorno a tutti, ciao Francesco, mi dice la mia mamma, mi diceva sempre, tocca ridere appena un piangere, Francesco. È vero, qui anche andiamo a chiedere un po' le impressioni delle persone per quanto riguarda, avete seguito la presentazione del passaporto vaccinale, cosa ne pensate? Dai, Bruno Bizze, buongiorno e buon inizio settimana, tra Belluno e Feltri abbiamo cielo coperto, grazie Bruno, buongiorno anche per l'aggiornamento meteo, Flaviano che mi via un po' di stelle, buongiorno a tutti, ciao Mariana che invia anche lei un po' di aiuto, Dilva Modulo che mi saluta, Filippo che mi dà il buongiorno, Enza Pellicanò che non avevo salutato, buongiorno Enza, da dove mi segui? Fammi sapere. Maria Larghini, buongiorno a tutti, Lara, buongiorno Roberto, non se ne può più. Saluti da una parrucchiera, su loro in una crisi di nervi, la buttiamo sul ridere, anche se in realtà da ridere ce n'è proprio niente, brava Carlet, così questo mantra che utilizzo spesso anch'io quando dico sorrido per sdramatizzare, ma non c'è assolutamente nulla da ridere, la situazione è seria, allora facciamo un saluto, massima solidarietà e vicinanza come sempre a tutte le amiche anche che mi seguono per quanto riguarda parrucchieri, non parrucchieri, ancora barbieri, quanti sono chiusi proprio in questa zona rossa ormai da troppo tempo. E a proposito di colorazioni per quanto riguarda insomma i colori d'Italia, sapete che abbiamo una proposta, mi aggancio a questo, oggi vado un po' a braccio, non seguo una scaletta, abbiamo aperto proprio con queste pass vaccinali, con questo green pass di cui parleremo tra un po', abbiamo invece altre notizie per quanto riguarda proprio i colori, che cosa si dice ad esempio Friuli Venezia Giulia e Veneto, tante regioni, oggi sapete che c'è un incontro tra regioni e Draghi, oggi ci sarà questo incontro e allora che cosa vanno a fare nella conferenza Stato-Regioni? Sicuramente uno tra i primi, ma poi si accoderanno tutti gli altri che vogliono riaperture o almeno avere un piano di ritorno verso zona gialla, anche se sapete che da decreto sembra appunto che a quanto già stabilito per tutto il mese di aprile non ci saranno zone gialle ma solo un'alternanza tra ragioni rossi, ma questo non piace, non va bene, proprio così ai governatori, come ad esempio Federica che vuole un piano per riaprire, nonostante la situazione sanitaria, dicano sicuramente le aziende, poi chi ci lavora all'interno sia molto critica, dice oggi andremo a proporre a Draghi e Gelmini che cosa? Dice Federica, proponiamo un documento che contiene il ritorno alla zona gialla, per cui vi ricordo ancora una volta, Presidente del Friuli Venezia Giulia, ma assieme agli altri presidenti che oggi si incontreranno proprio con Draghi e Gelmini che vanno a preparare a stilare un documento dove all'interno c'è un piano per riaprire e quindi andando verso la colorazione gialla di cui non conosciamo, insomma non la vediamo all'interno del nuovo decreto che per quanto riguarda aprile sembrerebbe completamente assente. Se dovessi mostrarvi quella che è un po' la cartina e anche quella che è la previsione per quanto riguarda proprio il governo centrale, sembra proprio che in questo caso ci sia seria preoccupazione e non ritorno in zone gialle. Questo è quello che loro oggi proporranno, sappiamo questa è la nuova colorazione, visto che non siamo andati in onda sabato e domenica, ci siamo lasciati venerdì mattina quando ancora non sapevamo cosa avrebbe deciso il ministro Roberto Speranza, eccola qua, insomma questo è poi anche l'aggiornamento con tutte le zone, con l'aggiornamento proprio riguardo del colore delle regioni d'Italia dove dicevamo, agganciandomi alla notizia dei governatori di regione, non c'è nessuna regione gialla, non perché non ci siano ancora gli indici o comunque i valori ma proprio per chiaramente loro scelta e per quanto riguarda preoccupazione dove dicono allarme varianti, chiusure fino a maggio, quindi ancora non prospettano insomma in questo caso nessun colore giallo. Lo studio che rivela carichi virale doppi rispetto al 2020, simulazioni del ministero con questi contagi almeno un altro mese senza giallo. Per rispondere alla proposta del governo, come vediamo adesso, scusatemi questo gioco, salto da un giornale all'altro per farvi vedere entrambe le situazioni, governo che non vuole zone gialle in aprile, mentre invece governatori come appunto nel caso di Fedriga, ma perché abbiamo il messaggero Veneto sotto mano, ma se ne avessimo altri di altre regioni come la nuova, la tribuna, oppure ancora sempre come Emilia e Lombardia eccetera, tanti vogliono fare un piano per quanto riguarda la riapertura. Questo è quello di cui abbiamo parlato insomma poco fa, insomma sappiamo anche che l'andamento fortunatamente va un po' leggermente migliorando anche in Friuli, rimanendo qui sul giornale per motivi di praticità, vedete che in una settimana ci sono ben mille casi in meno, Udine e Gorizia restano colpite e sono maggiormente, volevo dire, le più colpite. Scende ancora l'incidenza sui 100.000 abitanti, siamo arrivati come ieri sera tanti mi chiedevano a 363 rispetto ai oltre 500 con i quali siamo partiti. Negli ospedali gli infetti si vedranno solo, gli effetti scusate, si vedranno solo tra qualche giorno, per cui dovremmo attendere ancora un attimino. Alla luce anche di questa riduzione per quanto riguarda quello che stiamo affrontando questa mattina, la proposta è proprio questa, un piano di riapertura dove con questo documento che oggi verrà presentato a Draghi e Gelmini si cerca, o almeno si vuole proporre, il ritorno per le zone gialle. Cosa vuol dire? Quindi riaprire insomma per qualche modo tutta l'economia che è fermata e ferma in questo momento. Ok, allora avete visto anche questa notizia, oltre al pass vaccinale abbiamo anche un po' tutto lo scenario, quello che oggi viene riportato nel giornale. Poi ancora tanti per quanto riguarda invece altre notizie che oggi troviamo, come ad esempio insomma Zaya che ieri per quanto riguarda l'esperimento che va a fare attreviso con questi quattro punti vaccinali, con l'apertura a tutte le persone nel 1936, come già avevamo annunciato, cosa fa? Appunto va a chiamare tutte le persone da essere somministrate il vaccino. Presidente che dice a questi ritmi, stiamo calcolando in un'intervista, dice che in 136 giorni possiamo in qualche modo andare a vaccinare. Il test dell'OS2 sarà esteso poi affiancato anche a tutte le prenotazioni digitali. Tutti i Veneti, dice il titolo, vaccinati per giugno sì all'accesso libero, in qualche modo senza la prenotazione, senza code, dice l'esperimento è andato a buon fine per cui in qualche modo questo sarà esteso, sarà protratto anche ad altri modelli, ok? Questo è quello che andiamo a vedere, se volete vi mostro anche quella che è la fase di somministrazione del vaccino, abbiamo anche pure un grafico qui in questo momento che viene riportato, ben descritto proprio alla pagina 2 del giornale. Ancora testimonianze, rispetto e saluto gli amici che mi seguono dalla provincia di Treviso, so che ce ne sono diversi, ieri a Godega di Sant'Urbano dove appunto si è recato il presidente, vedete ancora profilassi, ancora nonni che si sono messi in coda per ricevere la vaccinazione dalle sette e mezza del mattino, come già ho affrontato, in ben quattro centri del Trevigiano, un mese all'ora per i nati del 1936, l'adesione è stata al 90%. Il direttore generale Benazzi che dice il problema è convincere gli anziani circa AstraZeneca, sapete che ancora rimane tantissimo scetticismo rispetto a questo siro, poi collegato alle polemiche che sono accadute e per molti, insomma la percezione della mancata sicurezza del siro AstraZeneca, ma poi ascoltano e molti accettano, quindi tanti sono scettici, preferirebbero avere altri tipi di vaccinazioni. Ieri sera abbiamo pubblicato la notizia del lockdown in tutta la Slovenia, se possiamo andare un pochino più a nord-est rispetto al Friuli, vediamo che oltre confine la direzione è quella di misure molto severe, l'annuncio ieri pomeriggio per quanto riguarda il governo che va a chiudere tutta la Slovenia dall'1 al 12 di aprile, quindi tra pochissimi giorni avremo insomma lo stato qui proprio confinante con il Friuli Venezia Giulia, dove il governo ha deciso questo lockdown in tutto il paese dall'1 al 12, come dicevo, accogliendo le indicazioni che sono arrivate proprio dal comitato tecnico scientifico. In una riunione straordinaria dell'esecutivo il premier e i suoi ministri hanno infatti deciso all'uninamità di introdurre questa chiusura generalizzata che partirà esattamente giovedì prossimo. Si è detto consapevole ancora il premier delle difficoltà che questo comporta, ma l'unico modo riferisce per andare a ridurre il contagio. Ancora ci saranno sicuramente però strette anche i confini, i confini appunto con l'Italia e alla Croazia. Quindi lockdown in Slovenia con la chiusura un pochino di tutto. Per quanto riguarda bollettino invece del Veneto Recovery ancora in aumento, altre 10 le vittime del virus con ancora dati che nelle ultime 24 ore in vento sono risultate positive, ci fanno sapere 1119 persone e ancora ieri in Friuli Venezia Giulia 300 nuovi contagi da molecolari pari al 7% del rapporto tra le persone infette e quelle trovate e i tamponi somministrati. Questo invece è la prima pagina del Gazzettino che vediamo insieme prima di leggere qualche commento. Veneto, queste sono le parole del governatore Zaia, ieri proprio in visita a Godega di Sant'Urbano, i centri vaccinali, tutti vaccinati a giugno, il piano accelera nelle ultime 24 ore e sono state somministrate 74 dosi ogni 10.000 abitanti. Il presidente che dice se manteniamo questo ritmo e fa un conto puramente matematico, dice in due mesi dovremo metterci in sicurezza. Questo è quello almeno che Zaia afferma proprio nella giornata di ieri. Tra un po' vi mostro anche quella che è la prima pagina del messaggero ma prima voglio un attimo fare ancora un saluto alle persone collegate ricordando il numeretto prima di procedere. 327 94 39 574. Oggi abbiamo aperto, avete visto, con questa panoramica sulle principali notizie, prima di procedere nelle cronache anche delle province, visto insieme abbiamo proprio per quanto riguarda pass vaccinale, green pass di cui si sta parlando nell'intera Europa. Abbiamo analizzato questa mattina come entro metà giugno ci potrebbe essere questo documento facoltativo, lo ricordiamo, non assolutamente obbligatorio ma per chi vorrà avere una agevolazione e semplificazione. Per quanto riguarda viaggi, accessi a palestre, ancora altre situazioni come eventi, ancora palestre eccetera, ci sarà questa possibilità di un documento che sarà o cartaceo oppure digitale dove all'interno sono contenute le informazioni rispetto alle somministrazioni del vaccino di ogni persona legate proprio all'accesso ad esempio in strutture come hotel covid free oppure ancora in qualche modo abbiamo ad esempio i voli internazionali e ancora aeroporti ed altro. Qui ci sono ancora tantissimi dubbi, ci sono molti nodi da chiarire rispetto al pass vaccinale perché loro procedono spediti ma voi sapete come dico spesso che tantissimi sono ancora le persone della materia, competenti, scienziati, virologi, immunologi, insomma inutile che facciamo l'elenco di chi siano, che sostengono che un green pass o comunque un passaporto vaccinale sia assurdo perché le persone seppur vaccinate devono continuare ad avere tutte le misure di sicurezza come le hanno le persone che non si vaccinano come mascherine da ingossare, distanziamento, gel, mani eccetera perché sono persone che potenzialmente possono comunque essere veicolo di contagio. Per cui vedete abbiamo questa diatriba in questo momento, l'Europa va spedita verso un passaporto ma dall'altra parte la scienza non è completamente d'accordo, l'abbiamo detto più più volte, ok? Questo chi mi segue lo sa perfettamente. Allora ricordo agli amici collegati 651 che abbiamo anche la replica alle 15, alle 16 e 30 perché tanti me lo chiedono in privato, io vado avanti con dei saluti e poi proseguiamo col giornale. Rita buongiorno, un abbraccio a tutti, ciao Rita buongiorno anche a te. Daniela dice le chiese sono colme di gente, altro che distanziamento, i ristoranti sono chiusi, qualcosa non torna. Buongiorno Daniela che fa una considerazione rispetto a ciò che ha aperto e rispetto ad altro invece che non lo è giustamente. Dario buongiorno e buon inizio settimana a tutti, ciao Dario Tonuti, buongiorno anche a te se è già al lavoro, figuriamoci il passaporto sanitario dice Alfredo Fresco. Eh lo so che molti insomma, uno non sono d'accordo ma secondo sembra una cosa assurda come proprio dicevamo, ah no? Poco fa. Ancora altre notizie, sì, volevo dire altri saluti come Iago che mi saluta e mi dà il buongiorno. Abbiamo Mary che dice sono in ritardo, ciao Mary, nessun problema, adesso riprendiamo. Poi ancora Doriana dice anche no, con i vaccini, dove è saltato il messaggio? Eccolo qua, che si vaccini lui e finitela di fare terrorismo. Buongiorno Doriana. Ancora Dilva da Speranza ci si può aspettare, ancora abbiamo Renata Dal Borgo che mi saluta da Belluno, buongiorno agli amici della provincia di Belluno, Renata che mi dà anche un aiuto. Ciao cara, un abbraccio anche a te. Allora abbiamo Rosalba, buongiorno a tutti, ciao Rosy, abbiamo Ensa, dicono che i ragazzi sui 18 non si vaccinano, vuol dire che non possono viaggiare. No Ensa Bon, mi sembrava di averlo spiegato bene. Ho spiegato che quello che è stato il presento ieri, di cui abbiamo parlato questa mattina, questi 5-10 minuti in apertura alle 6 e mezza, Green Pass o passaporto vaccinale, non è obbligatorio, ok? È un documento per quanto riguarda la proposta dell'Unione Europea da metà giugno, dovrebbe arrivare entro quel periodo, per facilitare ancora una volta, come loro dicono, io ti riporto quello che viene riferito, quello che ha detto il commissario dell'Unione Europea, non lo dico io, ma dice documento per viaggiare in con agilità per quanto riguarda le persone che vogliono farlo aderire a questa proposta, dove all'interno viene contenuto cartaceo o digitale, le informazioni riguardo alle somministrazioni di che tipo di vaccino e ancora qual è la data e la copertura che ti è legata rispetto ancora ad alcune strutture oppure anche, ad esempio, alcuni mezzi di trasporto. Buongiorno Cinzia, buona settimana, Marco Chiesa che ci saluta a tutti dalla Val di Peio, Val di Sole, buongiorno da Peio, Val di Sole, Trentino Alto Adige collegato con noi e Fabiano che mi invia un po' di stelle. Il pass va benissimo, dice mio Cristina, se per caso qualcuno mi fa un'osservazione ho qualcosa da mostrare. Ciao gara! Allora, avete visto il numeretto? Andiamo avanti con altre cose? Ancora salutando gli amici collegati, dicevo che volevo mostrarvi pure la prima pagina del messaggero, vediamo di cosa si parla oggi, si parla chiaramente del sostegno, di questa corsa, le tante domande per quanto concerne proprio le persone in grave difficoltà, ne parliamo tutti i giorni, insomma, rispetto anche ai ristori che il governo ormai ha legiferato e che sono veramente troppo pochi. Corsa alle domande, dice oggi la prima pagina, per i sostegni statali ai settori in crisi, Confcommercio che dice bisogna dare priorità a chi è stato costretto allo stop totale, imprese della regione tra le più efficienti negli ottenere gli aiuti, si parla proprio di questo. Poi ancora invece nella parte un pochino più sotto c'è un'immagine che ritrae quello che era il punto di massa vaccinale proprio per due giornate ha interessato la bassa e frilanna in Friuli Venezia Giulia, siamo alla Tisana dove nel weekend si sono somministrati almeno 1800 vaccinazioni come leggiamo qui che poi vedremo sicuramente però all'interno. Dicevamo proprio prima pagina dedicata oggi ai nuovi sostegni, a chi è stato costretto allo stop totale, sono tanti, salutiamo e ricordiamoli ancora una volta, i più penalizzati sicuramente come ad esempio il settore dello spettacolo, della cultura, il settore sportivo, delle palestre ma non solo delle piscine e ancora l'attuale chiusura di tanti bar e ristoranti, tutto il settore del turismo pienamente penalizzato, ancora il turismo per quanto riguarda stagionale, tutte le persone che avrebbero dovuto lavorare quest'inverno e non l'hanno fatto. Insomma sono tantissime le categorie davvero ampie. Da Pozzo a Tilatti elencano tutti i settori colpiti, dicono eccolo qua, lo leggiamo dai bar e ristoranti ma anche il wedding, non dimentichiamoci di loro, tutti gli eventi, taxi, servizi alla persona, sono davvero davvero tanti. Oggi abbiamo pure anche un elenco delle categorie che sono state più duramente colpite da un punto di vista economico e di chi avrebbe proprio il maggior bisogno di sostegno finanziario. Oggi se ne fa diciamo un censimento, come dicevamo già ne abbiamo elencati tanti ma oltre ai soliti bar e ristoranti, palestre e piscine abbiamo anche pure negozi d'abbigliamento, accessori, wedding per quanto concerne tutto ciò che è legato agli eventi, servizi alle persone, gli alberghi, la moda, taxi, noleggi con conducente, fashion, attività legate al turismo. Sono davvero davvero tanti quindi il nostro pensiero va a loro. E poi ancora un fenomeno in aumento così come testimoniano molti. Vedete parrucchieri, destetiste fermi ma sta dilagando l'abusivismo. Sono sempre di più in questo caso nelle segnalazioni che arrivano. Quindi è vero, ufficialmente chiuso, chi dovrebbe lavorare in presenza nei negozi dove tanto di tasse di affitto si continua ai correnti e spese tasse a pagare, molti altri si sono invece organizzati in modo abusivo e quindi andando all'interno delle abitazioni alla faccia insomma delle restrizioni per ancora sostenere questa possibilità di lavoro. Arriva la lettera quindi anche a confertigianato e tanti che vanno a segnalare come appunto ci siano questo dilagare dell'abusivismo proprio all'interno delle case. Ok? Andiamo allora dicevo poco fa per chi si è collegato tardi abbiamo oggi un incontro importante, lo ricordo poi ne parleremo, seguiteci anche sul nostro sito, ne daremo notizie in tempo reale. C'è un incontro oggi tra le regioni, tra i presidenti e il governo in particolare parteciperà pure confermato Draghi e ancora Gelmini all'interno di questa riunione, Federica già si è esposto dicendo farò una proposta pratica ovvero presenteremo un documento con un piano di riapertura perché non è concepibile che tutto il mese di aprile non ci sarà la possibilità di avere una zona gialla o una finestra in cui poter aprire in qualche modo le attività economiche, quelle più duramente colpite. Quindi questa è un po' la proposta che attendiamo e vediamo che cosa e come reagiranno dal punto di vista del governo sul ritorno alle zone gialle che vuole Federica. Questo è quello che vanno a riferire. Nel frattempo già abbiamo detto questa mattina che in una settimana abbiamo avuto meno mille casi in regione, Udine e Gorizia sono le province che rimangono però più colpite. Poco sotto abbiamo invece il bollettino quotidiano, quello che già abbiamo pubblicato ieri, ricovera ancora in crescita, altri 23 decessi e ci sono pure 446 casi positivi. Ancora abbiamo un'altra cosa che viene riportata nei vaccinati e nei guariti del covid, gli anticorpi misurati con un test. Qui abbiamo il responsabile del laboratorio città di Udine dove dice negli immunizzati i valori sono in linea con le aspettative, un po' quello che era la previsione, loro confermano proprio andando a dosare per quanto riguarda la misura anticorpale nelle persone che vengono vaccinate. Ancora a favore di ASUF e ASUG delle due aziende sanitarie, Banca Terra a fianco delle strutture sanitarie, infatti ci sono nuove donazioni e c'è questo caso per quanto riguarda donazioni proprio per aziende. Abbiamo aperto questa mattina col passaporto vaccinale, ora non mi ripeto ne abbiamo già parlato, abbiamo spiegato dove potrebbe essere utilizzato, abbiamo detto che non è obbligatorio la presentazione ieri del commissario dell'Unione Europea, quindi questo pass che potrebbe entrare in vigore da metà giugno e che conterebbe le informazioni delle persone che sono state vaccinate per agevolarne lo spostamento soprattutto tra gli stati nei viaggi ma non solo, anche all'interno di certe strutture. Draghi valuta i ristori selettivi, riaperture si tratta con la Lega, ne abbiamo già parlato mille volte e poi ancora invece andando in quelle che sono le notizie per quanto riguarda la provincia di Udine velocemente, poi torniamo al gazzettino, oggi nella città si parla di ex dormisci, il comune cerca ora un'alternativa ma il market è l'unica proposta concreta, così insomma terapella. Zanolla del progetto FVG dice non dobbiamo dimenticare che parliamo di un'area privata, solo per la demolizione servirà un milione di euro. Ancora si parla di pronti soccorso, si parla della situazione sanitaria in regione, che cosa si dice? Eccolo qua, si dice proprio questo, ci sono meno accessi fortunatamente per quanto riguarda quello che stavamo dicendo poc'anzi con mille contagi in meno in media in questa settimana, in questi ultimi sette giorni, ma ci sono molti posti covid ancora occupati, quindi l'allarme un po', diciamo l'attenzione all'interno delle strutture sanitarie non è calato, è stato ridotto del 30%, l'afflusso di quelle persone, ancora dei pazienti contagiati negli ultimi cinque giorni, il direttore dice peggio questa rispetto alla seconda ondata, l'attenzione però è ancora molto alta, questo motivo è quello che vanno a riferire, di prestare ancora moltissima attenzione. Settimana Santa, abbiamo in chiesa e all'esterno, qualcuno diceva poco fa chiese aperte, ancora tante persone all'interno e poi altre situazioni invece chiuse, qualcuno fa un po' un paragone, dice come è possibile, vedete qui cosa succede, molti che anche in Duomo per la Domenica delle Palme, in questo caso fedeli distanziati come riporta il giornate alle 20 poi all'interno della cattedrale, insomma le funzioni religiose come sapete anche in zona rossa non si fermano. Ancora Rocco Burtone racconta l'oste scomparso, Renzo dice era un oste atipico, un sognatore, un amico, abbiamo un articolo proprio legato al ricordo della persona. Per quanto riguarda la montagna, un flash a paluzza, risalgono in questo caso nel comune i contagi, si salva solo la casa di riposo, da febbraio l'ASP Matteo Brunetti e Covid Free, in paese ci sono 66 residenti positivi, 19 sono stati posti in quarantena, la preoccupazione del sindaco sono ripartiti i focolai, forse a causa di un calo anche dell'attenzione. A Tervisio invece si parla di richieste da parte di tutto il consiglio, vaccini e passaporto verde, quel passaporto di cui già abbiamo parlato in apertura, questa mattina alle 6 e mezza. Chiusa forte, proteste per un'antenna wind, il TAR promuove il comune, mentre invece a Pagnacco contagi, feste, compiti dagli amichetti, il sindaco segnalate chi sgarra. Cosa succede? Fa molto discutere a Pagnacco in provincia di Udine, diventa davvero un caso in tutta la regione, la lettera che il primo cittadino, sindaco proprio di Pagnacco, va a spedire per quanto riguarda la dirigenza dell'istituto scolastico, fa discutere questa lettera inviata al primo cittadino alla dirigente delle scuole. Mazzaro dice, ma è un invito a denunciare i ragazzi, solo un modo per evitare i focolai. Lui all'interno dice, vi invitiamo a segnalare compleanni, feste abusive, ma poi ancora i ragazzi se fanno compiti insieme ad altri alunni. Insomma, questa lettera ha suscitato davvero non poche polemiche per quanto riguarda il sindaco che ora va un po' a spiegare quali erano le sue intenzioni, semplicemente dice legate a prevenire nuovi focolai. A Dignano abbiamo un incidente con la moto in prognosi riservata, un imprenditore di 52 anni, ricordiamo ancora Franco Zammataro che sta lottando all'interno della struttura sanitaria, l'imprenditore appunto che è ricoverato in terapia intensiva Udine in prognosi riservata dopo essere caduto con la moto. Quindi in questo caso cronaca che viene riportata oggi dal quotidiano. Allora andiamo avanti, ancora altre cose, andiamo a San Giovanni al Natisone, abbiamo il punto vaccini al modello Drive-In, la proposta che unisce proprio il consiglio, è stata presentata al distretto la disponibilità proprio dell'area del retrostante campo sportivo, il sindaco che dice siamo pronti anche a replicare quel modello sperimentato a gennaio che già avevano visto quando avevano fatto questa struttura di vita per i tamponi, ora servirebbe, insomma servirà per le vaccinazioni. A sede degli anno c'è il saluto a nonna Fernanda, decana di San Lorenzo, aveva compiuto 103 anni, oggi abbiamo appunto ancora qui il decesso che viene riportato per quanto riguarda insomma la donna circondata dall'affetto della figlia Giuliana, dei nipoti Arianna e Alessandro. Ancora medio friuli, Varmo, Limu non aumenterà, aperto un altro bando per i buoni alimentari, mentre invece a Chiopris, Viscona abbiamo il riconoscimento, si sfornano a Chiopris le pizze a tre stelle elaborate da Mascari. Trovate un lungo articolo del pizzaiolo ormai noto in tutta Italia, proprio che esce da Chiopris e Viscona con la sua attività, lo trovate, dicevo, proprio sul nostro sito nordest24.it. Andiamo a Ruda, addio a Marta, morta sei giorni dopo il marito, ancora allutti e decessi, purtroppo zampar 70 anni, Luigi regonato 80, avevano anche loro contratto il covid, erano stati ricoverati in ospedale entrambi lo stesso giorno. E poi invece un po' le immagini che hanno preso la copertina, o meglio la prima pagina del messaggero oggi in edicola, vedete queste foto che ritraggono la campagna di un paio di giorni di 48 ore che è interessato alla cittadina della bassa Latisana con quasi 2000 vaccinazioni. Wanda e la nostalgia dei nipoti con sui potrò riabbracciarli, 1800 hanno ricevuto il primo vaccino, all'opera 100 operatori volontari. Questo messaggio che danno che le persone vaccinate potranno riabbracciare e fare un po' quello che vogliono, purtroppo ragazzi non è corretto, non so se voi lo sapete ma insomma secondo la scienza, non lo dico io, anche se si è vaccinati comunque bisogna prestare la mattina, ma attenzione non è sinonimo di essere liberi dal contagio al 100% o di non essere vettore di contagio. Io continuo a ripeterlo per cui magari faccio questo appunto dicendo guardate che non è così scontato, ok? Almeno questo è quello che dicono chi studia la materia, va bene? Allora ci spostiamo anche nel gazzettino, buongiorno sono le 7.06, andiamo a vedere cosa succede anche nel Veneto orientale, poi andiamo con altre notizie, provincia di Pordenone, oggi lo ricordo per chi si è collegato tardi abbiamo aperto proprio con questo desiderio di ripartire alla luce di questo il commissario dell'Unione Europea che va a proporre questo pass vaccinale, addirittura lo presenta in diretta in conferenza stampa nelle varie nazioni della nostra Europa e dice in questo caso persone vaccinate che vengono tracciate con un pass che sia digitale o cartaceo ma che possa servire agli spostamenti a favorirli proprio alla luce delle ripartenze che speriamo di rivedere a presto. Ma saltiamo questa cosa, ne abbiamo già parlato, andiamo dicevo Venezia Mestre, abbiamo l'hotel Ambasciatori svaleggiato dai ladri, se ne parla all'interno del gazzettino e vediamo tra poco è ancora vaccinato un veneziano su 5, abbiamo le prime indicazioni di quelli che anche sono i numeri, l'US3 proprio veneziana che ha superato quota 100.000, l'US4 oltre 32.000, la campagna ora entra nel vivo, ieri toccata pelestrina coda a Iesolo, così vediamo appunto vanno ad aprire. Ancora dicevamo superate, vedete ancora nel dettaglio, 100.000 dosi pelestrina anche qui si vaccina, nel territorio dell'Ulss3 un quinto della popolazione ha ricevuto una dose a più del 20% di over 80, è stato somministrato pure il richiamo. Ancora accompagnatori in attesa, l'azienda avverte, tocca loro solo se ci sono scorte avanzate, tantissime anche ieri dicevano come è possibile che tanti li accompagniamo oppure ci sono caregiver o badanti o persone che proprio sono vicini tutti i giorni a questi anziani e non ne solo e chiedono per quale motivo non possiamo ricevere anche noi la vaccinazione, in questo caso allora è consentito nel caso in cui ci siano scorte che avanzano e tanti magari vanno in qualche modo a non presentarsi. A Ieso code proteste, troppi qui in anticipo, cosa succede spesso in molti punti vaccinali ci sono un sacco di code ma il più delle volte come gli stessi organizzatori e medici ci spiegano sono persone soprattutto quando sono destinate ai più anziani che si presentano non in orario se tanti appuntamenti vengono dati ad esempio alle 9 del mattino molti si presentano alle 8 e questo non va bene perché vanno a sommarsi a tutti quelli precedenti e nel corso della mattinata poi succede veramente il finimondo quindi ancora l'appello anche ieri che era arrivato presentatemi esattamente nell'ora in cui viene dato l'appuntamento e non troppo in anticipo per non andare a in qualche modo a creare questi assembramenti. Abbiamo altre notizie come ad esempio zona rossa nelle isole, i progetti per ripartire guardate che ci stanno pensando, serande abbassate, poca gente, pellestrina, burano pagano la crisi ormai già di oltre un anno di covid come ormai diciamo da un sacco di tempo stangati per le sigarette, comprate fuori provincia, da Campolongo Maggiore erano andati in una tabaccheria a Codevigo sono stati scoperti in centro a Mestre, ieri sono stati rispettati i limiti che sono stati imposti anche dall'emergenza. A Mestre invece abbiamo ambasciatori razziato dagli sbandati, vediamo che questa è una notizia che viene riportata proprio nella prima pagina della Venezia Mestre ovvero si parla del colpo a Mestre, sono stati rubati oltre 30 televisori dalle camere dell'hotel che si trova in corso del popolo che è stato chiuso come sappiamo a causa dell'emergenza covid. Alcune stanze dell'hotel, dell'albergo trasformate in bivacchi e sul pavimento sono state pure trovate siringhe gettate dopo l'uso, davvero una bruttissima cosa quella che è accaduto anche qui nel veneziano. Andiamo con altre notizie riguardo sicuramente un aggiornamento, un flash da Mogliano, siamo in provincia di Treviso per parlare di Marta, Marta comunque va migliorando, sapete la ragazza 26enne per chi non se lo ricorda faccio un refresh che era stata quindi aggredita alle spalle da un ragazzino di 15 anni con diverse pugnalate, eccolo qui, è pronta a parlare, oggi uscirà dalla reanimazione dove era stata accolta con le amorevoli cure dai sanitari dove la situazione clinica sta pian piano migliorando. A breve l'atteso pure un colloquio della 26enne quando sarà pronta chiaramente a fornire indicazioni mediante un interrogatorio, un confronto con gli inquirenti per cercare di far luce sull'esatta dinamica di quanto è accaduto. Dopo il risveglio dal coma, insomma indotto nel corso della settimana scorsa, come già abbiamo detto, ha potuto anche rivedere i genitori e parlarne con un breve colloquio. Ancora Marghera, spari nel cuore della notte, bossoli in strada a Marghera, guardate cosa succede, abbiamo colpi esplosi da una pistola a salve, due raffiche all'una e mezza e anche alle 4 e 30, ancora si cercano di capire per quale motivazione. Andiamo più avanti, saltiamo Mira, Mirano e andiamo a Sandonà, eccolo qua, una volpe impiccata, trovate trappole mortali proibite, un animale ucciso a Sandonà di Piave scoperto all'interno di un pollaio che si trova in via Isonzo nella cittadina veneta. L'interviene intervento pure della polizia, volontari in cerca di cuccioli rimasti senza la mamma, una volpe in questo caso proprio strangolata qui nel paese. Eraclea, Eraclea si c'è pronti per la stagione ma basta con le accuse, la sindaca Zanchin traccia un bilancio di sei mesi del suo mandato e invece a Portoguaro si parla di Lison e Pradipozzo e anche di nuove rotatorie che sarebbero in partenza, almeno centro l'anno, secondo quanto dicono e apprendiamo, aprono i cantieri per mettere in sicurezza due incroci e teatri proprio di gravi incidenti spesso, una sulla statale 14, l'altra sulla regionale 53, l'annuncio arriva proprio dal consigliere Barbisan. A Portoguaro ancora abbiamo l'onorificienza a Tito, sul ritiro arrivano tre diversi ordini del giorno, il centrodestra che si spacca nella cittadina presenta due diversi orni nel giorno sulla revoca dell'onorificenza proprio destinata a Tito. Ancora San Michele al Tagliamento invece genitori e dad, uno sportello digitale con psicologo, cosa succede? Nel paese quasi a confine con Friuli Venezia Giulia a San Michele al Tagliamento in tutto il suo comune compreso Bibione viene messo a disposizione da parte dell'amministrazione comunale un sostegno, un confronto chiamiamolo come volete, un colloquio gratuito proprio con i genitori dei ragazzi che dovessero avere diverse difficoltà soprattutto legate al ruolo educativo non solo anche legato all'attività scolastica a distanza come sappiamo che avverrà almeno fino al 5 compreso di aprile. Quindi genitori didattica a distanza in caso di cui ci sono delle problematiche c'è una psicologa che è disponibile anche per un semplice confronto su questa tematica, si chiama uno sportello digitale per avere insomma questo supporto messo a disposizione della stessa amministrazione comunale. Adesso vado anche in provincia di Pordino un attimo poi leggo qualche commento. Buongiorno ragazzi siamo arrivati a lunedì 29 marzo, nuova settimana, l'ultima settimana dai che ci porta fuori da questo marzo ancora con tutte queste problematiche e continuiamo a vivere ormai da quasi oltre un anno. Abbiamo un aprile che si prospetta senza zone gialle come annuncia il governo ma oggi c'è un incontro come dicevo più volte importante tra presidenti di regione e draghi gelmini dove andranno a proporre un documento legato alle riaperture perché vogliono appunto proporre un piano di riapertura con zone gialle all'interno anche già del mese di aprile perché dicono non riusciamo ad arrivare a maggio con queste continue chiusure solo con zone rosse ed arancioni delle deroghe devono in qualche modo arrivare di apertura. Vediamo allora seguiremo oggi pomeriggio questa mattina. Che cosa succede? Vaccini, accelera il polo in lentefiera siamo in provincia di Pordenone quindi vedete che si muove così parallelamente. Ora dopo le aperture avvenute anche a Udine lentefiera proprio di Udine a Martignacco vediamo che al via da questa mattina 12 postazioni in viale treviso per ora operativo due volte due giorni alla settimana. Ci sono a disposizione 1300 fiale ogni giorno ogni 24 ore però è allarme nella RSA San Vito al tagliamento. Abbiamo a San Vito un ospite positivo poi lo vediamo all'interno del giornale dopo la prima dose. Intanto ieri 446 nuovi contagi più ricoveri in terapia intensiva e 23 decessi. Ancora grigliate musica denunciati sei giovani notizia che già abbiamo riportato ieri mattina quando appunto su segnalazione dei vicini i carabinieri appunto si recano all'interno di un'abitazione a Sacile dove oltre al nucleo familiare vi erano altri ospiti appunto con un barbecue musica cibo per quanto riguarda insomma tutto ciò che viene fatto contro le norme anti contagio multe per una festa abusiva a Sacile violate le norme come leggiamo nel giornale anti covid altri sono scappati sono stati tutti sanzionati lo vediamo tra un po' ma dicevo allora anche con rispetto a Udine anche Pordenone parte con un piano vaccinale un cambio di passo si parte proprio all'interno della fiera con queste oltre mille fiale a disposizione giornalmente qui sono 1300 dice il quotidiano nel padiglione di Viale Treviso quindi puntura pasquetta intanto a Martignacco si cerca il modo di evitare i ritardi sapete che anche durante proprio la giornata dedicata alle somministrazioni del vaccino ai volontari di di protezione civile quasi un migliaio che hanno ricevuto la loro prima dose che cosa è successo ritardi proprio nell'orario di quello di somministrazione dovuto ancora non è chiaro a cosa ma anche slittato di una due barra tre ore così come ci hanno riferito si cerca in qualche modo anche a Pordenone di non fare lo stesso errore affinché questo non capiti abbiamo la protesta degli albergatori paradossale l'ok ai viaggi esteri vedete che le categorie vanno quindi a dire a loro la seconda Pasqua con locali chiusi e limitazioni della zona rossa purtroppo dispiace per questo dicono ok non è il lockdown di un anno fa ma per le categorie gli esercenti non cambia nulla cioè per loro è comunque un lockdown chiamiamolo zona rossa o chiamiamolo lockdown noi abbiamo le serande abbassate questo lo dicono così insomma è inutile giocare sui termini perché le condizioni sono come quelle di un anno fa si parla molto di monoclonali c'è abbiamo un primo test ieri se ne è parlato per chi lo ha sentito nei media tra sabato e domenica se ne è parlato molto diversi casi già curati e guariti dalla cura sulla donna risco anticorpi somministrati dal team delle malattie infettive siamo in provincia di Pordenone proprio a pazienti pordenonesi il primario crappis che dice vista la scarsità delle forniture vanno usati su chi è fragile quindi andando un po a scegliere in modo accurato anche su chi somministrarli perché ce ne sono pochi sono efficaci in qualche modo insomma devono abbiamo la possibilità di somministrarli dobbiamo vedere a chi farli abbiamo quindi questa cura sperimentale proprio nel pordenonese salgono a ricoveri negli ospedali 23 nuovi decessi bollettino però abbiamo anche vero mille contagi in meno nell'arco di sette giorni in Friuli ancora a Pordenone c'è il caso di Ciriani che rilancia sul parco sotterraneo l'amministrazione sta valutando l'idea di un posteggio interato in piazza del popolo dice è un'area in posizione strategica lockdown dovuto al covid campieri in centro che hanno inciso pesantemente sul bilancio di gsm nel 2020 in cassi che sono stati ridotti dell'1.9 veramente tantissimo si parla di lavoro si parla di electrolux perché si torna al tavolo ma è strappo nel sindacato sarà una due giorni di trattativa in cui i sindacati dei metalmeccanici cercheranno di trovare la strada che possa portare verso una possibile bozza di accordo integrativo quindi ancora auguro anche loro speriamo ne possano uscire sacile abbiamo una proposta dei comitati affinché si faccia un pollo post covid ovvero arriva una richiesta che è stata appunto avanzata in queste ore di creare in città un centro di cure per il dopo guarigione come sappiamo purtroppo quando si guarisce non è tutta finita lì molti lo sanno e lo possono testimoniare che ha avuto un parente un amico loro stesso appunto hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari negli ospedali dopodiché c'è bisogno una sorta di riabilitazione non si è al 100% al top in questo caso insomma vanno a chiedere proprio una sindrome post covid 19 un polo che possa ospitare questo tipo di persone abbiamo sempre a sacile l'abbiamo già detto ma viene ritrattato nel dettaglio all'interno del gazzettino la festa abusiva ancora con barbecue e musica sei giovani multati dai militari dell'arma notizia che abbiamo pubblicato ieri mattina che chiaramente crea anche tanto sconcerto tra le persone dicendo siamo in una dittatura non si può nemmeno fare un barbecue con musica e stando stando al dpcm stando il decreto delle misure di restrizione no cioè di fatto è questo se poi abbiamo pensieri diversi come abbiamo visto ieri e come già detto più volte insomma i militari dell'arma si devono attenere a quelle che sono le cose che vengono divulgate chiaramente nel governo specie spilimbergo ciclo pedonale per la cina e nuova tranche di lavori e poi invece andiamo un pochino più a destra nella colonna abbiamo prata di pordenone con il consorzio agrario e la cronaca eccolo qui il furto con fuga bottino circa 200 euro cosa è successo quindi hanno provato e tentato il furto al consorzio del frio di venezia giulia che si trova quindi a prata di pordenone colpo che è stato messo a segno nella notte proprio scorsa tra sabato e ieri dalla rivendita di sementi fertilizzanti e attrezzature agricole è stato asportato pure il registratore di cassa poco più sotto vedevo che c'era un'altra notizia in colonna eccolo qua sia a brognera si parla di biblioteca abbiamo un kit d'asporto per la sorpresa pasquale eccolo qua quello che si va a dire la biblioteca civica che lancia in questo caso un laboratorio take away per le feste pasquali dedicato ai più piccoli nella fascia proprio d'età dai 4 ai 10 anni ok l'ultima cosa dai poi andiamo a riassumere un attimino insieme le cose e riprendiamo l'argomento del giorno con un po di commenti le ali delle notizie in biblioteca libri su libertà di stampa ed arte eccolo qua e poi ancora paleontologia la morte di big john col case del cretaceo una ferita sul collo fa pensare uno scontro qui per quanto riguarda invece notizia che abbiamo già pubblicato che trovate anche questo sul sito di questo grande non grande per quanto riguarda attrice era topo questo enorme che sta diventando una vera propria star internazionale con lo scheletro che viene ricostruito in questi giorni proprio nei laboratori zoici di trieste e col suo nome così come viene chiamato in questo momento allora volevo tornare un attimino con voi innanzitutto per ricordare il numero a quanti magari sono entrati in contatto con noi questa mattina e poi ancora per ricordare invece a quanti ci seguono la possibilità di seguirci oltre che sui social per chi è collegato su facebook anche in tv sul canale 15 il numero è 327 94 39 574 possibilità di scriverci whatsapp non riusciamo a rispondere a tutti però riusciamo a leggere in qualche caso tutti i vostri commenti messaggini che ci inviate e poi invece dicevo la fascia pomeridiana con la replica alle 4 e mezza allora faccio un saluto a quanti mi sostengono vi danno una mano e mi salutano caramente come grazia che mi dice buongiorno a tutti grazie per le informazioni dettagliate chiare che ci dai saluti da cagliari buongiorno agli amici anche da fuori nord est sempre tantissimi allora saluto massimo rossi buongiorno dice tanti altri come patrizia da sannola di piave in provincia di venezia ancora abbiamo morena buongiorno da pordenone buon lavoro ciao morena ancora sonia buongiorno roberto sabato vaccinazione la tisana mi dice sonia servizio eccellente velocissimi e molto disponibili grazie sonia che ci dà anche questa testimonianza rispetto alle 48 ore di vaccinazioni con 1800 no fiale iniettate proprio in due giorni nella bassa friulana elisa foletto buongiorno elisa mi invia un po di stelle grazie ancora marisa buongiorno a cosa serve farlo se lo puoi riprendere non risolviamo niente così dice marisa zoia di cosa parli del vaccino tu dici se lo si può riprendere il covid anche se ti somministri ma chiaramente stiamo parlando quando c'è la somministrazione del vaccino secondo gli esperti a non avere gravi sintomi non avere gravi poi complicanze rispetto alla patologia ma in termini di contagio così attualmente come stanno dicendo non è che ci sia una copertura pari al 100 per cento che vuoi buttare le mascherine no è vero marisa buongiorno mi dice roberto a cosa serve farlo a questo lo penaletto scusami rita volevo dire giusto e roberto bendetto persone pensano che il vaccino li rende immune invincibili ma non è così beh certo rita come dicevamo poco fa proprio per quanto riguarda la riduzione delle possibili complicanze è importante ma per il contagio ancora dobbiamo capirlo meglio no secondo gli esperti mario de bortoli buongiorno che mi via un po di stellina e grazie caro per il supporto mi saluta marina mi dà il buongiorno anche da franca marongiu poi ancora federica pass vaccinale eccolo qua l'argomento del giorno cosa dice federica dice pass vaccinale se tutti quelli che vogliono possono accedere alla vaccinazione non certo con la chiamata per categorie o età federica sai in effetti che in questo momento è proprio come dici tu abbiamo andrea biondo siete usciti con la testa buongiorno andrea poi ancora altre notizie sabrina che dice cosa mi dice buongiorno e buon mercoledì ancora tanti altri come daniela a proposito di vaccino perché a noi panettieri sempre aperti non veniamo presi in considerazione allora salutiamo la nostra daniela no che ci saluta e ci segue se non sbaglio dalla sicilia panettiera è vero secondo me sta lavorando anche questa mattina si alza prestissimo e dice perché non veniamo presi anche come categorie anche noi buongiorno ornella ovesani che mi saluta e grazie a francesca andrisani per le 75 stelle ma anche massimo rossi che vende in via un centinaio veramente gentili franca buongiorno roberto buongiorno a tutti e buon inizio settimana cara ciao franca buongiorno da dove mi segui franca fammi sapere allora dai abbiamo ancora qualche minuto perfetto così riusciamo a vedere anche cosa è successo ieri in provincia di treviso perché io vi mostro un po' ecco quello che è un po' il modello che ieri zaia ha preso in considerazione questo esperimento chiamato in questo modo che è avvenuto proprio in provincia di treviso con dice basta prenotazioni facciamo le somministrazioni a tutti quelli che si presentano e allora andiamo con la edizione così ve lo mostro che cosa è successo ieri col suo intervento pure fisico no la visita che ha fatto proprio anche a godega di santurbano andiamo a vedere proprio all'interno del giornale così vediamo che cosa è successo ieri oltre a salutare gli amici che mi seguono anche da quella fascia da quella popolazione dalla provincia no di treviso eccolo qui questo è la vostra locandina vaccini prenotazioni nei comuni ma ieri eccolo qua si parla di questo test ad accesso libero e tanti dicono perché non aprono senza prenotazioni così come hanno fatto in veneto e questa è una bella cosa un bel esperimento ieri cosa è successo tutti quelli del 36 ancora si sono presentati e hanno fatto questo esperimento vi mostro qualche immagine di quello che è avvenuto ieri di cui abbiamo abbondantemente parlato con diversi articoli e dice così il titolo vaccinati anche i 400 accompagnatori andiamo quindi a godega in media 1 1 ogni 10 anziani ha sfruttato pure la possibilità di ricevere le proprie dose unico vincolo avere più di 65 anni no se accompagnate perché tanti dicono perché è stato fatto anche agli accompagnatori perché nella clausola insomma di questo esperimento fatto ieri sperimentazione diciamo così le persone che accompagnavano l'anziano del 36 e che avevano pari o più di 65 anni potevano parallelamente alla persona accompagnata ricevere anche loro la vaccinazione così in questo caso da aumentare anche il beneficio no tra il sacrificio delle persone operatori presenti e le persone invece che si recavano ieri al centro del campo di godega 30 per cento del 36 benazzi qualche ritardo per alcune ammesse più complesse ariese invece si è presentato l'80 per cento dei convocati astrazeneca ci ha convinti nessun timore vedete che a parte le discussioni in merito ad astrazeneca tanti poi invece si sono recati a ricevere la vaccinazione ancora villorba diversi punti anche qui in campo pure sindaci ora vi aiutiamo a prenotare online è pronta la piattaforma internet sapete che parte questa settimana questo sito internet dove è possibile prenotarsi per quanto riguarda nome e cognome e scegliere la località dove poter ricevere ancora le vaccinazioni blocco di esami e visite garantite comunque l'urgenza e lo ricordiamo ancora in veneto in tante ulse come ad esempio quella vicentina ma anche soprattutto quella di treviso dove stiamo analizzando la parte sanitaria in questo momento insieme col gazzettino abbiamo il fermo di tutte quelle che sono insomma le visite programmate ambulatoriale eppure gli interventi che come sapete sono stati sospesi per la pandemia però saranno garantite ancora le urgenze l'azienda ha riorganizzato gli accessi negli ospedali slittano di 10.000 prestazioni i servizi territoriali non subiranno modifiche dicono funzioneranno in questo caso normalmente questo è un po quello che vanno a riferire nella giornata di oggi poi abbiamo la notizia di marta marta l'abbiamo già accennato ancora parlandone poco fa nell'altra edizione quella della venezia mestra se ne parla molto più approfonditamente oggi a mogliano pronta a parlare le dimissioni nel reparto di reanimazione parliamo della ventisenne uscita dalla che esce oggi dalla terapia intensiva si attende pure il colloquio con gli inquirenti ieri alla messa l'invito pure a pregare per lei da parte proprio del sacerdote ancora la visita sportiva li salva dall'infarto scusate il caso a montebelluna sono i nuotatori carlo denoni claudio bortamiol e hanno scoperto problemi proprio cardiaci al cuore facendo gli esami per partecipare alle gare in occasione appunto degli esami hanno scoperto di avere delle malformazioni delle problematiche proprio cardiache che in qualche modo dicono ci hanno salvato ancora ultime notizie proprio valdo biadene lutto alla gemina è morto stramare il maestro del prosecco alvio si è spento a 59 anni a causa di un male incurabile con la moglie paola gestiva una delle cantine più rinomate chi mi segue dalle zone valdo biadene sicuramente ne aveva già sentito parlare ecco abbiamo dato un flash anche così dalla provincia di treviso andando a vedere cosa è successo ieri per quanto riguarda questo esperimento delle vaccinazioni aperte a tutti quelli dell'anno 36 ok allora io vado a chiudere 7 29 non mi resta che salutarvi ringraziarvi buongiorno a tutti ciao franca da sevognano del torre è un piacere ascoltarti ma franca grazie sei veramente gentilissima e poi ancora rita dice buona guarigione a marta bravissima ci uniamo anche noi alle augure di pronta guarigione per marta novello come vediamo che oggi esce dalla terapia intensiva ogni tanto qualche notizia bella oltre tutte le cose negative che vediamo nei giornali tutti i giorni ancora una volta vi auguro una buona giornata un buon lunedì forza ragazzi ancora ci risentiamo più tardi perché allora ci leggiamo sul sito nordest24.it o su facebook in merito all'incontro di oggi tra le regioni e proprio draghi e gelmini vedremo se i governatori riusciranno in qualche modo a spuntare questa zona gialla che vogliono inserire nel mese di aprile o almeno fare un piano di riapertura nel mese che sta per avvicinarsi ancora una volta buon lavoro a tutti e grazie per avermi seguito un abbraccio ciao a presto